appassionati di calcio il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Lombardangotta di Marsala per Marsala Accademia Trapani dopo circa due anni ritorna il terreno di gioco dell'antico quanto importante stadio Lili Betano è iniziata la partita con l'Accademia in possesso palla prova la prima sortita in avanti tocca il suo primo pallone tempesta poi la sventagliata verso Cannavò il suo cross due calciatori a terra vedremo se questo pallone indirizzato verso e poi c'è il gol l'Accademia passa in vantaggio rustico allontanato la sfera con i pugni ma nulla ha potuto su questo tiro scoccato da Cannavò il lancio alla ricerca di Mbaie buono il suo controllo mette la palla a terra poi serve Cammareri che potrebbe crossare palla che non viene toccata dal portiere danza pericolosamente all'interno della dell'area piccola Najib allarga su Mbaie che entra in aria il pallone al centro la possibilità del tiro la seconda realizzazione 0-2 il risultato ancora l'Accademia che si presenta all'interno dell'area di rigore siglando il raddoppio il lancio buona fede la possibilità di entrare in aria il cross che però si trasforma in un tiro che termina direttamente sul fondo il pallone al centro il miracolo di rustico che si distende ed evita la terza marcatura all'Accademia adesso questo lungo lancio non si alza la bandierina il tiro il pallone che l'MLM si spegne all'interno della porta macroscopica topica difensiva da parte dell'Accademia Trapani è il gol che naturalmente riapre ipoteticamente il match ancora un lancio alla ricerca di Castiglione che entra in aria il tiro colpisce l'esterno della rete finalmente quando riusciamo a vedere comunque un tiro in porta dopo tanti minuti il colpo di testa pallone allontanato ancora un tiro batti e ribatti e arriva la terza marcatura per l'Accademia che così chiude i conti di questo match 1 a 3 il risultato dopo un continuo batti e ribatti i calciatori si vanno ad abbracciare il Marsala ritorna in attacco con questo cross Carpinteri esce male la porta è vuota è incredibile allora il pallone viene allontanato in fallo laterale si rialza Claudicante e arriva anche il triplice fischio da parte del direttore di gara termina 3 a 1 il risultato in favore dell'Accademia Trapani questo incontro al Nino Lombardo Angotta che ritorna ad ospitare dopo due anni uno match di calcio a 11 maschile dunque vi ricordo prima di salutarvi ancora una volta il risultato finale Marsala 1 Accademia Trapani 3 a voi tutti buonasera